Giulio buongiorno ben trovato buongiorno buongiorno senti ti do una brutta notizia oggi non mangio qui sono venuto però a rubarti t'ho telefonato una ricetta per la nostra rubrica a tutto caffè a tutto caffè bene per la rubrica tutto caffè allora abbiamo passato a un dolcino visto visto che il caffè si abbina bene allora abbiamo pensato a una bavarese pere e caffè con una doppia consistenza di caffè e una pera cotta proprio nel caffè e nella sambuca quindi per ricordare il classico fine pasto la bavarese tortino soffice a base di purea di pere con l'aggiunta di un po di caffè qualche uovo un po di latte un po di panna fatta semplicemente freddare come se fosse una panna cotta una pera invece presa leggermente bucherellata con un coltello un'aggiunta di polvere di caffè un bicchierino di sambuca passata quanto 3 5 minuti in un forno a 80 100 gradi tolta aperta a metà servita insieme alla bavarese semplice benissimo io ovviamente non mi fido mi dai cortesemente la ricetta scritta volentieri se non mi riesce farla torno e me la fai tu volentieri tanto il ristorante qui grigio veneziano lo chef è giulio a tutto caffè ciao giulio grazie